La regia di Dario Lacocchetta, con gli attori Paolo Pestotto e Giovanni Manzano. La produzione è dell'Accademia Tognani e di Cine Epic, che rappresento. In collaborazione con la Santa Forza Filme, il contributo della Public Commission di Nuove Marche, con l'aiuto della Banca di Parma, con l'aiuto della Corsini, la masseria Futuri, che ha prestato anche la masseria a Manduria, una masseria storica per il territorio parantino, è stato lì che è nato il servizio di Manduria, ci tengo a dirlo perché in Manduria, scusate che mi sto lavorando con questo discorso. Ma appunto questo è il senso del portometaggio, anche la valorizzazione del territorio, questa provincia di Dario.